Bene, buonasera, ci troviamo alla presentazione della nuova Nikon D600, siamo in un bel albergo qui a Milano. Nikon ha presentato questo nuovo gioiello, una macchina, chiamiamola così, in maniera un po' irriverente, una nuova entry level full frame. Di fatto la D600 offre un corpo macchina piuttosto contenuto, da tenere in mano è poco più grande di una D7000, anche il peso è quasi analogo, ma porta in dote il sensore a pieno formato da 24 megapixel, quindi in pieno formato da 24 per 36 mm. La macchina, come dicevo, è molto compatta, molto gradevole da maneggiare. Abbiamo nella parte posteriore un nuovo display che viene mutuato dalla D800 con diagonale da 3,2 pollici con risoluzione di 921.000 punti. Disposizione abbastanza classica dei tasti tipica di casa Nikon, quindi qui sulla sinistra una sequenza di tasti, il pad con il tasto di conferma. Cosa dire, alla macchina ci è stato comunicato un prezzo di listino di 2150 euro per il solo corpo e senza dubbio rappresenterà un punto di riferimento nel mondo delle macchine fotografiche destinate o a un professionista o a un utente estremamente evoluto. Bene, direi che per questa prima presa di contatto con la D600 possiamo fermarci qui. Vediamo anche qualche piccolo dettaglio, magari ecco qua ci sono tutte le connettività della macchina, le porte HDMI, le porte USB. La macchina sarà anche compatibile con un accessorio Wi-Fi tipo quello che si era già visto sulla D3002 che permetterà alla D600 di dialogare con periferiche Wi-Fi, quindi di condividere in tempo reale i contenuti sia le immagini che i video.